E' in corso di pubblicazione sul portale della Regione Abruzzo il bando relativo alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti per la campagna 2020-2021. Lo annuncia il Vice Presidente con delega alle politiche agricole Emanuele Imprudente. Le aziende e i produttori avranno tempo fino al 30 agosto 2020 per inviare i progetti per i quali è stata stanziata una dotazione finanziaria para 6,6 milioni di euro, con un contributo del 50% sul progetto ammissibile. Previsti diversi tipi di interventi, dalla riconversione varietale, cioè il reimpianto di una varietà di vite di maggior pregio enologico-commerciale, o il sovrainnesto su impianti esistenti alla ristrutturazione, come la ricollocazione del vigneto, in una posizione più favorevole o il reimpianto con modifiche al tipo di coltivazione. Il comparto vitivinicolo svolge un ruolo di volano nel settore agricolo abruzzese e pertanto dobbiamo continuare a investire risorse, ha detto il Vice Presidente Emanuele Imprudente, a margine della presentazione del bando.